Noi come nazionale ANDE 17 dobbiamo lavorare tutti insieme e loro in questo momento fanno parte della nazionale. Questo serve anche a far capire ai ragazzi del campus che non è perché partecipano a questo progetto, hanno la nazionale come diritto. E inoltre chiaramente in questi tre giorni dove giochiamo insieme, li metto a confronto, voglio capire quanto sono i miglioramenti di chi gioca perché questi ragazzi oggi dal 25 agosto hanno fatto 11 partite, è contro chi purtroppo non riesce a giocare nelle loro squadre oppure ancora partecipando a campionati di Serie B o di Under non hanno iniziato.